e qui inizia l'altro ennesimo cantiere nel salario che è ancora una moda qui legge obiettivo numero 443 del 2000 euro questo cantiere è stato aperto circa un canto addietro più o meno e adesso sta interessando quello che dovrebbe essere un contratto da monetare quello che interessa il comunitino il campo tenese comunque ne accumulerà la passione di un rato di fare questo tratto è quello più difficile da poter andare in quanto sono molti viadotti e devono essere entrato che si trovano nella zona sismica dove da più di un anno stanno però che l'anno scorso il terremoto continuano ogni quattro giorni continuano questa nottina alle cinque città del terzo grado molto semplice qui come potete vedere il terzo grado è stato già aperto con tutti i due sensi di circolazione chiaramente il back l'auto l'ho trovato ovviamente i tappiè il giorno è anche il notte diciamo anche 876 560 all'ora oggi siamo conturati perché davanti a noi non abbiamo nessuno stiamo andando a una velocità di circa 90-100 km un altro grado per vedere questa è stata che non è la situazione dunque dobbiamo dire che l'anno scorso c'è un maio di galleria nuove e anche l'estate facendo una velocità più si vede come la luce dei lavori questa è la seconda galleria ovviamente il doppio senso circolazione anche qui è facile finire perché sono buoni un po' un po' qua questo è un lato che è stato una buona per le 6-7 km non ne ha più più sono le porte di cazzo vedendo la situazione in questo e per adesso non possiamo per andare anche adesso nella fila quindi dopo uscendo la funzione per la vita vi dobbiamo poi ricordare che signori che oggi facciamo le tv che sono tutti le elementiste le drogue e ormai i due costi che ci sono la televisione si può fare solo così che ne fa delle radici che all'esterno network che hanno generato e che fa tutto in autoproduzione praticamente questi video è zero però un po' tempo questi video riescono a far vedere cose importanti come la situazione di questa la nostra è la real time il tempo reale praticamente questa sera viene fatto il termine domani e già non sono comunque già in onda in tutto il mondo visibile a milioni di persone chi lo vuole va a striccare e sapere poi le giocare e va a vedere quelle che sono le nuove le nuove le nuove sarebbe bello fare la televisione o radio come i vecchi tempi con altri tutti i contatori che fa l'audio che fa le voci che fa i vari puntati e tutto il resto ma oggi non ce lo possiamo permettere più perché siamo in tempo di crisi e in tempo di crisi bisogna solo tagliare la prodotto e cercare di rendere un servizio buono ovviamente spendendo il meno possibile anche perché nessuno va più come dice un mio vecchio bianco di cui lo faccio un nome io lo so un gioperato non va più nessuno anche delle mosine al risposto che poi ti possono aiutare a realizzare la tua opera il tuo programma sono molte cose bizarre che si dicono ma è così anche perché gli attuali presenti canali del territorio terrestre sono in mano a pochissime persone che chiaramente li affrontano a buon prezzo ovviamente e tu che hai nei dei programmi informati devi andare a comprare un canale magari una persona che su Y che ha il canale se lo tiene per stretto magari che ha 10 denti che ha investito per pagare le concessioni e tu devi pagare questi esibili signori che fanno quello che vogliono e impediscono a chi ha voglia e capacità di fare questo lavoro di farlo di mettere in atto le proprie complimenti allora una volta in Italia abbiamo citato noi stessi abbiamo superato la fornita che era il tempo siamo a quanti minuti di terminato passei la regia ci dice abbiamo fatto 6 minuti di risultato praticamente abbiamo percorso più 10 km di una situazione e ancora questa un obbligo sempre dritto interruzioni appallamenti accessi la produzione nuova galleria qui ormai non mi oriento più perché è stata nuova un po' santa cassolina tornate indietro quando potete l'obligatore si impegna quando inizia tornare indietro quando non stiamo e per tornare indietro ci dobbiamo buttare giù da qualche parte ecco qui qui più o meno è stato rispettato io sento che la vecchia è stato rispettato lo stesso percorso della vecchia di autostrada è stata solo allargata la carreggiata con questo mezzo metro di corsia che mi hanno una così di emergenza credo che più o meno il percorso è rimasto quello che è giustamente qui vale la cura che è fatta sentire quindi più di presto non si è potuto fare comunque questo trattamento dobbiamo vedere che è stato fatto dobbiamo variato ai laboratori è stato fatto attendo a dire perché questo capire è aperto da ronetto circa in un anno è stato praticamente fatto un tratto anche se solo su un lato questa capire non è stata modernata e non sa perché ho fatto il computer e qui comunque è stato fatto un tratto a circa ecco qui qui è stato fatto in massimo la capire è rimasta stretta e invece la carreggiata è stata legata l'intervista la regia la moto sarebbe molto più perché il pacinetto dovrebbe terminare questo anche questo tratto questa rinanzione dovrebbe terminare questo è il 10 di un'altra che è il 11 che è il 10 adesso una maggiunga la modifica evidentemente si fa lavorando sul vooro no cosa adesso abbiamo e adesso rientro un carreggiato eccoci adesso rientriamo nuovo e quindi ancora non è stato toccato, non credo che questo tratto non sarà interessato, possiamo spegnere, grazie